Avete presente le mandorle, quelle d'aperitivo super lucide? Ho trovato il trucco! Venite con me! Mandorle! Quelle buone, eh! In forno a 200 gradi, toglietele un attimo dal forno e staccatele con la forchetta. Ora, senza la carta forno, di nuovo in forno! Super lucide! Si vede che sono lucide? Assaggiamo! E per una prova assaggio davvero perfetta, mi sono dovuta sacrificare! E ora, allacciate il gremiule e provatene anche voi!